Da Manchester 1996, solo noi di Atom Radio possiamo darvi queste delizie primary Grazie a tutti 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 Fantastica versione dal festival del 2011 con il rientro in squadra di Roger O'Donnell Sempre da quella fantastica serata abbiamo Killing Canarab Grazie a tutti 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 e come tutte le belle favole si arriva anche al capitolo finale purtroppo in questo venerdì 22 settembre abbiamo chiuso, chiudiamo in bellezza con Hand giusto per finire in bellezza finiamo con Hand, è giusto tratto da show ovviamente il nostro Dark Chess DJ B-Duck appuntamento a venerdì prossimo insieme a atomradio.it rimanete collegati con noi Out of This World la puntata, la trasmissione fatta apposta per i più fan qui in Italia e solamente su Atomo Radio vi lascio con Hand attorno a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti Grazie a tutti Stop loving me I don't wanna be a space Stop loving me Stop loving me I don't wanna be a space 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 Stop loving me Stop loving me I don't wanna be a space 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 Grazie a tutti.